ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di bookness e dall'altra parte finalmente ho la possibilità di intervistare alessandra donati ci conosciamo da diversi anni lei un'attrice puliedrica autrice di manifestare con la luna un successo straordinario più di 10.000 gobbie vendute tra self publishing e pubblicazione con un importante editore e poi ha scritto il libro il potere purificante della luna calante fantastico c'è una rima dietro ma c'è sempre la luna come oggetto misterioso e pieno di conoscenze che svela e poi infine un ultimo libro che ha pubblicato con self publishing vincente quindi bookness che per lei è stato ed è come mi ha appena detto terapeutico ma prima di svelare il nome di quest'ultimo libro ciao alessandra dici chi sei e di che cosa ti occupi ciao emanuele piacere vederti sempre e adesso mi occupo a tempo pieno di scrittura perché all'inizio visto era un divertimento un gioco piano piano visto che funzionava la cosa che le persone amavano i miei libri perché poi ho aperto la pagina facebook li sto dietro non è che le lascio sole dopo col libro per cui scrivo perché anche scrivere su facebook è comunque una scrittura cioè l'annunciare dei messaggi incoraggianti alle persone è un modo per esprimersi mi piace tanto è proprio bellissimo secondo me sta realizzando quello che è il sogno di tantissimi scrittori e scrittrici che tutti i giorni mi contattano che quel sogno un po' velato che non lo dicono in maniera palese ma è quello di vivere di scrittura ok quindi la tua vita è una vita dove tutti i giorni magari di fronte a una pagina facebook un file word o non so se utilizzi il mac ma ti trovi a scrivere 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 ma soprattutto scrivere delle tue passioni no e il tuo ultimo libro so che ce l'hai lì puoi farcelo vedere per cortesia questa è la bellissima copertina che mi avete fatto voi questo colore rosa intenso con una donnina che si tiene un pochettino perché aveva incontinenza urinaria e questa sono io e perché l'ho raccontato indubbiamente questo libro non ha a che fare con la luna quindi rischiavo che nessuno me lo comprasse ma io l'ho scritto per me e l'ho scritto per superare più tipi di vergogna non soltanto quella dell'incontinenza che mi ha creato qualche problema non indifferente quando ce l'avevo ma poi perché non lo volevo dire a nessuno che andava ad operarmi quando poi c'è stata una complicanza l'operazione mi ha costretto a casa ferma non me la sentivo più di non dire niente alle persone quindi ho scritto un post sul blog dove confessavo a tutti questa cosa ho detto guardate ragazzi io non ho detto niente ma io non sono un guru perché io dicevo sempre che sarei guarita senza intervento a tutti dicevo questo io dico io faccio miracoli cioè so che con la luna si possono fare miracoli e però sto miracolo per me non avveniva e quindi sono dovuta ricorrere a un normale intervento chirurgico questa cosa mi creava proprio il problema di dirlo ma quando l'ho detto ho trovato così tanta solidarietà cioè le persone mi hanno amato lo stesso quindi a quel punto ho capito che la vergogna è veramente va messa sul palmo della mano come dico sempre e soffiata via non ha più senso di esistere bellissima questa metafora quindi la scrittura al di là della possibilità che ti dà adesso magari come abbiamo detto prima di vivere di scrittura la scrittura come un'attività terapeutica un'attività che ti permette di essere adesso come detto più libera più libera di essere te stessa più libera anche di relazionarti con gli altri in maniera più naturale più spontanea e questo magari è ancora a volte più pesante di quello che potrebbe essere la vendita di qualche migliaia di libro cioè ritrovare la possibilità di essere se stessi grazie a un libro è un'altra di quelle opportunità che pubblicare i libri può dare a qualsiasi persona immagino tu che adesso questo libro magari te lo rileggi qualche volta no? guarda è l'unico libro che ogni tanto lo prendo in mano e dico mamma mia e mi viene da commuovermi di nuovo pensare com'ero e come sono adesso una volta che l'ho scritto un po' come quando a te ti immergi in uno stagno sai lo dico la melma della vergogna però quando esci fuori ok hai attraversato la melma ma vedi un sole che splende più a colori adesso ti faccio un esempio non l'ho mai detto a nessuno porto i capelli guarda come ce li avevo sono i miei questi tutti ricci e io per una vita intera li ho stirati cioè dirti come la vergogna mi ha sempre attraversato hai capito? cioè sono molto più libera sono felice quindi scrivere è proprio terapeutico lo consiglio a tutti per me è sempre stato i diari ho riempito quaderni i diari per anni e serve davvero tanto perché togli fuori cioè togli da dentro qualcosa e lo metti sulla carta e dopo non c'è più dentro di te è lì e gli altri perché serve agli altri? intanto qui ci sono anche esercizi per superare la vergogna in generale tanti esercizi e poi c'è il collegamento fra malattia e comportamento se te ti comporti in un certo modo è molto probabile che insorga un certo tipo di malessere quindi ci sono spunti interessanti anche per chi non ha incontinenza cioè anche per chi ha altri tipi di malattie per superare visualizzazione di guarigione tutto quello che ho usato io insieme all'intervento quindi ho anche riabilitato i medici perché per me i medici non andavano bene ci voleva il miracolo non ho mai avuto bisogno di medici era la prima volta che mettevo piede in un ospedale tranne i parti però è stato utile perché adesso veramente salto, ballo, canto e contengo tranquillamente fantastico sì, pubblicare i libri stavo pensando significa dalla parola stessa pubblicare cioè render pubblico tu cosa hai fatto? hai reso pubblico un tuo mondo privato quindi con la pubblicazione del libro con un parallelo perfetto con una sinergia perfettamente allineata hai reso pubblico una tua cosa intima che comunque adesso una volta che è a disposizione di tutti per quel che riguarda le informazioni che la caratterizzano a te ti dà dei grandissimi benefici e ognuno di noi ha delle cose intime delle cose che magari non ha mai detto e che attraverso la pubblicazione del libro potrebbe veramente diventare la chiave per ritrovare se stessi e per fornire a se stessi e agli altri le persone anche noi gare delle risposte che magari prima erano nascoste erano un po' scure invece adesso grazie alla pubblicazione del libro come hai fatto tu tutto potrebbe avere un senso più logico e più spontaneo ecco mi viene da dire questo perché spontaneo significa anche più vero quindi Alessandra alla luce di questa piacevolissima e stimolante conversazione andiamo un attimo se tu sei d'accordo in relazione a ciò che interessa anche i lettori che ci stanno seguendo a parlare del libro Manifestare con la Luna un successo enorme sei partita col self-publishing con self-publishing vincente quanti anni fa? nel 2017 quindi tre anni fa nella tua dashboard avevi da marzo 2017 dopo un anno circa se non sbaglio conteggiato circa 6.000 vendite tra cartaceo e ebook corretto? corretto questo già è un risultato eclatante e poi hai ricevuto una proposta da un grande editore che ha rivisto il test poi lo ha riproposto con la sua linea editoriale certo sì Età dell'Acquario mi ha pubblicato e ti devo dire che mi è stato dietro moltissimo perché non glielo volevo dare il file perché mi piaceva anche pubblicizzarmelo e quindi poi lo passavo al giardino dei libri insomma avevo una mia piccola attività dietro che mi dava tante soddisfazioni anche economiche sinceramente poi però ho detto ma la lunga questa roba insomma da gestire diventa difficile la do all'editore ed va bene così insomma per me è molto più semplice adesso però ecco il servizio di Emanuele è meraviglioso perché può portare davvero dei margini buoni ecco anche di guadagno se ci si sta dietro ovviamente cioè non è che si può mollare lì cioè pubblicità però è anche bello come uno scrittore che si pubblicizza la soddisfazione è immensa sì e che tecniche utilizzi per promuovere i tuoi libri quotidianamente quando tu dici io scrivo dei post su Facebook cioè che cosa scrivi proprio per portare le persone in maniera naturale senza fare una vendita esplicita a interessarsi ai tuoi libri sai io sono fortunata perché il libro parla della luna quindi due volte al mese una volta è luna nuova una volta è luna piena ci sono delle piccole cose da fare dei rituali che propongo a luna nuova e luna piena quindi due volte al mese io metto delle frasi prese dal libro tipo oggi accendi una candela all'arcangelo Agnel ed esprimi i desideri in questo modo tra parentesi pagina 115 libro manifestare con la luna questa roba funziona la gente vuole il libro per andare a vedere cosa c'è a pagina 115 capito lo faccio spesso adesso anche su Instagram quindi anche poi luna crescente sono molto fortunata perché si presta l'argomento la luna si presta sempre luna crescente fai qualcosa luna calante fai qualcosa e ogni post ha un suo significato capito giorno per giorno sì questa è una strategia molto efficace che è la base del copywriting nel copywriting si dice che nel momento in cui tu devi postare un messaggio ad esempio sui social questo deve avere le quattro U deve essere unico utile è ultra specifico è urgente il tuo è ultra specifico perché dici guarda che a pagina 103 è descritto precisamente di che cosa parla questo argomento e poi è unico perché ti associ a un evento unico è utile perché insegna a fare qualcosa attraverso questa associazione definirei lunatica nel senso che associata alla luna ed è urgente ed è urgente proprio perché la luna sta calando sta sorgendo proprio nel momento in cui lo scrivi quindi complimenti veramente stai applicando alla perfezione le strategie del copywriting e non è un caso perché tanto chi vende chi riesce a ottenere risultati e perché fa le cose come vanno fatte e tu lo stai assolutamente facendo bene Alessandra quindi quali sono i tuoi progetti futuri adesso? Guarda adesso sono stata incaricata dal giardino dei libri di fare un calendario della luna e il quaderno della luna quindi sono molto felice perché divertente anche quello è scrittura e scatena la fantasia quindi la luna è il mio argomento diciamo così e sono proprio felice veramente la scrittura è qualcosa di bello che non deve rimanere mai nel cassetto ecco chiunque di voi abbia un progetto lo tiri fuori da lì perché è possibile per tutti scrivere il proprio libro e avere soddisfazione bene quali sono i siti dove possiamo trovarti? www.paradisointerra.com è il sito internet poi ho una pagina che si chiama manifestare con la luna e poi ho un gruppo chiuso manifestare con la luna che c'entra solo chi ha il libro perché? perché altrimenti fanno duemila domande cosa si fa luna nuova invece chi ha il libro lo sa quindi può entrare nel gruppo segreto infatti sul libro c'è scritto come entrare nel gruppo trovatemi ecco sono molto felice di contattarvi e di stare con voi benissimo qua sotto quindi trovate i link di Alessandra andatela a trovare perché ha veramente tantissimo nel segnale di questa stupenda intervista grazie Alessandra un abbraccio e ci vediamo presto grazie a te Emanuele ciao grazie a te Emanuele